sono qui per ritirare le esami delle feci ma lei la signora Monti? si perché c'è qualche problema c'è un problema molto serio le feci di suo marito non sono umane ma non sono di mio marito le ho raccolte per strada siccome me la lasciano sempre davanti al portone volevo capire di che razza era il cane per intracciare il padrone ecco perché me le ha portate nel sacchetto bisogna sempre andare in giro con il sacchetto dovete raccoglierla sempre comunque il cane dovrebbe mangiare più verdure perché quando lo rintraccia gli dica di fargli mangiare un po' più di verdure